Non vogliamo ovviamente farci prendere da facili entusiasmi, né tantomeno sopravvalutare questa tendenza, però indubitabilmente un segnale che cogliamo, soprattutto perché arriva più o meno a quella che comincia a avvicinarsi come la distanza temporale rispetto alla quale ci aspettiamo di vedere i segni tangibili di quella che è l'efficacia delle misure di contenimento che sono state intraprese.